Allora adesso presentiamo un'esibizione di Raffaele Giuliano, azienda certificata con i suoi saloni e centro estetico in asti, ultima apertura salone studio acconciature dove sono presenti i primi operatori in asti e provincia. A essere qualificati con la legge 174 del 2005 presso la scuola con stile e agenzia formativa, insieme di dettagli che personalizzano immagine e stile, rispetto massimo dell'individuo e della sua forma espressiva, il dedicarsi alle persone per conoscere i gusti del quotidiano, dare dimensione di proposta che coniuga e identifica il modo di apparire ma soprattutto di essere donna. No one cares, here we find words have no meaning Floating far, fields of snow, on the ground or below, frozenly silent and lonely Look in my eyes, take my hand Don't look back on the land If you believe We'll be flying Sunlight lights up your face As we float in this place If you believe If you believe We'll be flying If you believe I'veiti Una Si P� La Tu Si E Ma La Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.